Abbiamo un nuovo guest con tutti i nostri amici, Luiz! Chiara è stata punta, quindi adesso tutto il team si radunerà per cercare le cimici del letto. Yeah! Chiara, ma scusa! Una bella giornata, eh? Non so come parla! Hi, ragazzi! Guess who just arrived to our house in Ibiza! Manu! So I'm gonna have some different hair and makeup from tonight on! First look done! Chiara, ragazzi! International! Siamo sul cuore srebase! Ragazzi siamo international, guardate! Guardate come porto in alto l'orgoglio italiano! Guardate! Il lenguetaso limpio! Il lenguetaso! Ragazzi vi ho dato un consiglio sbagliato perché non ci sono sempre le tettine qua! Aia! Guarda che l'hai... ... ... ... ... ... Appena fatto l'idrogetto quello che ti porta in alto e sono caduto da 5 metri di faccia sul mare! Mamma mia! E adesso tocca a Luis! La sfida sullo spruzzino non la fai che la perdi! Minchia! Ah! E adesso? Non ce l'ho! Ah! Mamma Luis! Iron Man! Dai, 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 dai! Ah! Ah! Io non vorrei dire, però siete veramente inquietanti Grazie 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 Il trauma del parmigiano Dobbiamo andare a questa festa a tema Tema metallic E qui sono tutti a tema, Chiara sta facendo il make up Siccome io e Luis non abbiamo niente di metallic Ci faremo dei cappellini con la carta stagnola Questa era la nostra reference E questo è il risultato finale, ecco il nostro make up Cosa diamine sta succedendo Cioè stiamo andando a una festa a tema metallica Metallico Metallic E Io ho un ciuffo carmelo Perfetto Direi che siamo pronti Ok stiamo Siamo per entrare Siamo all'ingresso Non so se ci faranno entrare Siamo ancora una torta Eh no, non ho ancora una storia Siamo riusciti ad entrare e comunque a giudicare dalle persone che ci sono Siamo comunque vestiti bene noi Siamo abbastanza dignitosi da Dove andiamo oggi? Dove stiamo andando? Ma dove stiamo? Dove siamo? Dove siamo? Eeeh Eeeh cosa? Eeeh 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 In effetti che cos'è raga scusate? Carbon de bacalao Cos'era quella faccia? Eeeh Ilogiorno Èe Eeeh Un'altra ì Un'altra Eeeh Un'altra Questa Un'altra 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 Questa leo patato niente si è già stancato ferrani guarda impara sei una dilettante guarda la bella vita di leo hai una cabana tutta per te amore non sei contento? bebe ah quella festa si fa interessante questo posto è così cool wow buona 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 Grazie a tutti.